Ciao amici sono PanenoTube e oggi ritorniamo su Brawl Stars! Siamo con un nuovo video sul secondo canale, intanto mi avete chiesto di portare questo gioco più spesso quindi porterò più spesso video su Brawl Stars, però vi dico anche un'altra cosa a breve inizierò pure a portare un nuovo gioco qua inedito per il secondo canale non vi dico come si chiama però vi dico soltanto che è un gioco online prima di cominciare mi raccomando lasciate qui sotto un bellissimo like, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva, vi ricordo che siamo sul secondo canale quindi non c'è neanche la lista dei saluti, quindi non scrivete neanche PanenoSalutami perché non vi posso salutare ma ora direi di partire e direi di cominciare, mamma mia mamma mia allora vi dico anche un'altra cosa, ultimamente questo gioco mi sta piacendo molto di più rispetto agli inizi infatti quando ho fatto il primo video su Brawl Stars non è che mi aveva convinto più di tanto però dopo l'ultimo video che ho fatto mi è piaciuto tantissimo, infatti non vedevo l'ora di tornare qua a registrare inoltre volevo pure avvisarvi di una cosa, che io gioco da poco questo gioco quindi per chi non mi conoscesse vi avviso già che non state vedendo un pro player ma state soltanto vedendo uno che si diverte a giocare insieme a voi va bene allora voglio prendere qua la ricompensa gratuita che l'altra volta mi ero dimenticato di prenderla quindi prendiamo qua, 50 monete, poi cosa c'è? punti energia per Shelly, fantastico così si evolve sempre di più no bombardino no, bombardino no, però ho sbloccato il miglioramento, perfetto, raddoppia gettoni, fantastico, perfetto beh una cosa buona questa, una cosa molto bella tra l'altro stavo vedendo qua anche nella sezione negozi le vari skin per i personaggi che io ho già sbloccato ad esempio c'è Colt Rockstar, bombardino taglialegna mi piacerebbe sbloccarne una di queste qua, si le devo pagare con le gemme però vabbè dai secondo me è carino poter personalizzare anche il proprio brawler in questo modo vediamo qua gli eventi cosa c'è gli arraffagemme nella piazza reticolare e poi nella ring fluviale la sopravvivenza va bene, facciamo una cosa, facciamo qua arraffagemme in questo posto e poi proviamo anche la modalità sopravvivenza nell'altro posto ancora ok perfetto si comincia mamma mia questa è una zona horror oggi Brawl Stars versione horror proprio andiamo subito, no no non sparare, non sparare prendete qua, prendete qua le gemme fai fuori il nemico, fai fuori il nemico comunque molti di voi mi hanno spiegato come funziona bene bombardino dai fatele prendere pure a me un po' di gemme praticamente mi avete consigliato di prendere prima la mira e dopo sparare invece con gli altri brawler come ad esempio questo qua che ho tipo colt è uno di quelli che colpisce a raffica che manda direttamente i colpi, proiettili uno dopo l'altro con bombardino invece mi avete consigliato di fare il procedimento inverso ok prendiamo qua, prendi qua fai fuori questo non proprio amichetto ecco il nemichetto, l'avversario è il nemichetto in questo caso venite qua, venite qua siamo una squadra potente, siamo una squadra fortissima fantastico, fantastico ma usiamo un po' sta su perché non l'ha usato proprio di oggi vai qua, vai qua dai l'ultima gemma l'ultima gemma e vinciamo stiamo proprio vincendo vai fantastico ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta vai no 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 amichetti però fate attenzione non fatevi far fuori che se no poi qua la perdiamo la perdiamo, che già mi è successo in un'altra partita che eravamo gli ultimi secondi un amichetto che aveva quasi tutte le gemme forse si è fatto colpire di sua spontanea volontà perché andava proprio dosso il nemico e alla fine abbiamo perso la partita vai allora procediamo qua perfetto aumentiamo di altre otto coppe fantastico voilà altri gettoni ricevuti perfetto ah ma è vero che ho il raddoppia gettoni in questo giorno in questo video non lo so per quanto tempo mi dura il raddoppia gettoni ok abbiamo sbloccato qua cassa brawl vediamo qua se sblocchiamo qualcuno di nuovo apriamo qua no 18 monete punti energia vabbè per lui non riesco neanche più a pronunciare il suo nome e poi punti energia per shelly bene però ci può stare ci può stare perfetto voglio vedere anche un'altra cosa se io vado qua no per le coppe quanto mi manca per sbloccare il prossimo obiettivo ah sono più 17 coppe vediamo se ce la facciamo già in questo video non lo so vediamo vediamo torniamo indietro ora cambiamo obiettivo facciamo la modalità sopravvivenza facciamo in singolo poi magari dopo facciamo sopravvivenza in due perché non l'ho ancora provato qua in questo proprio in questa serie di brawl stars che sto facendo non l'ho mai provata ognuno per sé buonasera perfetto eccolo là infatti lì c'è un bombardino che prende subito qua no 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 tu non hai capito niente non hai capito niente prendi qua prendi qua ah 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 fatto fuori e uno è stato eliminato facciamo fuori bombardino no questo è forte però bombardino quando colpisce però fa veramente molto danno non è come gli altri brawler che comunque quando colpiscono comunque devono colpire più spesso wow fantastico pure il salto prendi qua prendi no 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 nooo sconfitto ma dai ma questo ma ma dai ma sì ma non è un modo buono per poter giocare cioè io ero già impegnato con un altro brawler e questo si intromette da dietro dalle spalle ma dai ma dai e vabbè fa parte sempre del regolamento del gioco vabbè sei coppe comunque l'abbiamo preso procediamo ok perfetto ah 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 dai se non fosse stato per l'altro che mi ha preso dalle spalle potevo fare molto di più ok dai usciamo proviamo a fare invece sopravvivenza stavolta però non in solo ma in due non l'ho mai provato vediamo qua cosa si riesce a fare ricerca giocatori subito vabbè ma qua si ricercano subito giocatori perché questo è un gioco in cui ci giocano un sacco di persone eccolo là quello è il mio amichetto perfetto come faccio a riconoscerlo ah c'è il simbolo sopra meno male meno male voilà vediamo se troviamo qualcuno tu occupati delle casse a me piace colpire gli avversari no no prendi qua prendi qua prendi qua prendi qua via 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 ok va bene per fortuna c'è lì il mio compagno avevo praticamente esaurito quasi tutti i cosi come che si chiamano non mi viene il nome non mi viene il nome i proiettili ecco evita le nubi tossiche prendi qua vado a raggiungere subito il mio compagno ok quella però si sta allontanando tu dove vai dove pensi di andare vieni qua ah ah no 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 eh dovrei utilizzare la super perché questi se ne scappano subito ma non vale io quando vengo a colpirli se ne scappano eh vabbè però così non vale cioè insomma eh dai sta arrivando lui prendi qua eh insomma su scontro finale alla fine mi bastava soltanto più usare la super per vincere quello è andato di là eh sono andati a rifugiarsi dove ci sono le nubi tossiche giustamente si sono autodistrutti la mia squadra ha vinto e vai nove coppe in più mi piace questa modalità in due c'è proprio il gioco di squadra quello vero e proprio mi è piaciuto davvero tanto anche l'altra modalità è bella ok vediamo qua quante coppe siamo arrivate ok me ne manca soltanto più me ne mancano due ma dai ma dai due coppe per sbloccare il prossimo obiettivo va bene e proviamo a rifare qua un'altra partita così perché mi sta piacendo poi ovviamente adesso cambio brawler perché con colt sì vabbè dopo un po' sono sempre le stesse partite ok qua c'è una cassa vengo subito qua prende prendi 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 e dai sti proiettili che si esauriscono così subito ok perfetto no sono in squadra con bombardino e bombardino però è forte quando prende bene la mira è forte no e vabbè sono andato pure io da solo sto giro me la sono proprio cercata io sono andato nella tana del lupo eh dai va bene dai però usciamo subito i primi che si sono fatti eliminare subito va bene facciamo di nuovo la raffa gemme così così possiamo sbloccare finalmente questo obiettivo su veloci veloci la raffa gemme ok voilà andiamo subito qua a prendere altre gemme no 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 non mi farete mai fuori su su questi sono forti sono più bravi sono giocatori più abili ok due gemme tre gemme perfetto via 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 prendi qua prendi qua voilà quattro gemme questi però si vanno a nascondere lì qui com'è che si chiama nell'erba volevo dire non mi vengono neanche le parole prendi qua voilà cinque gemme dai che ce la facciamo anche sto giro no 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 sto perdendo energia forse è meglio che mi ricarico un po' no no lì c'è nita nita è forte come brawler è un brawler molto forte però non mi prenderai mai non mi farai mai fuori ok perfetto no prendi sta super prendila super ehi insomma su mamma mia un panino guerrito sono sono un panino guerrito però ho praticamente più gemme di tutti forse quindi non devo farmi prendere per nessuna ragione via 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 no 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 mamma mia sei gemme sei gemme mi devo ricaricare un po' devo ricaricarmi perché sennò qua faccio una brutta fine ok partita conclusa mamma mia per poco mi stavano facendo fuori e prendendo le mie sei gemme vai sono stato il migliore fantastico vai 39 coppe ok perfetto usciamo e ora abbiamo sbloccato pure il nuovo obiettivo vediamo qua dovrei aver sbloccato tipo una sorta di moltiplicatore non lo so e si quello che ho preso prima raddoppiaggettoni più 200 va bene prossimo obiettivo a 150 dove si sblocca il nuovo evento foot brawler fantastico fantastico ce ne sono veramente tante ora capisco perché questo gioco viene ben supportato proprio dalla community stessa perché c'è veramente tanta roba da fare ma ci sono tantissime cose ora voglio cambiare un attimo brawler giusto così voglio provare adesso a fare bombardino prendendo prima la mira voglio sfruttare i vostri consigli che mi avete dato perché mi avete dato veramente tante cose perfetto no seleziona bombardino e prendi prendi qua seleziona perfetto perfetto voglio fare modalità sopravvivenza in due però con bombardino vai si comincia facciamo questa bella partita vai no però e vabbè no no niente non ce la posso fare io bombardino non potrò mai usarlo non sarà mai uno dei brawler che imparerò mai ad usare appena ho colpito subito sono dovuto scappare perché gli altri subito a rafica hanno iniziato a colpirmi e va bene dai non importa non importa facciamo una cosa miglioriamo un po' gli altri brawler che ho miglioriamo qua qua posso migliorare ancora sì perfetto miglioriamo ora colt vai perfetto 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 va bene dai direi di fare una cosa a questo punto mettiamo adesso di nuovo colt e proviamolo a livello potenziato seleziona giochiamo qua no non ho messo la modalità che volevo fare ho messo sopravvivenza in due ogni squadra per sé no ma io non volevo fare questa non volevo fare questa vabbè ormai mi tocca farla ta 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 voilà no ok perfetto pensavo che il mio compagno mi stesse per prendere il contenuto della cassa ora vediamo gli altri dove stanno squadre rimaste cinque praticamente tutte ci sono ancora tutte le squadre vediamo se in questo giro riusciamo a fare una bella partita ok dove stanno gli altri eccolo la eccolo la andiamolo lì a colpire ok scontro finale di già siamo già arrivati alla fine voilà ricarichiamoci un po' le munizioni e ora aspettiamo i nostri avversari avversari dove vi trovate no che ho fatto cosa ho fatto cosa ho toccato via 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 ok vai grande abbiamo vinto abbiamo vinto la tua squadra ha vinto grazie nome che non so leggere grazie mille nove coppe perfetto voilà e stiamo migliorando colt è veramente potente è potente colt fantastico ok usciamo qua e ora direi cosa succede aspettiamo qua ah ok si stanno aumentando le monete i gettoni che sto vincendo le coppe siamo arrivati a 115 coppe beh dai è comunque un inizio perché comunque ho iniziato da poco proprio da zero ma direi di finire qua anche questo video fatemi sapere cosa ne pensate spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate codividete iscrivetevi al canale con la campanella attiva noi ci vediamo in un prossimo video come sempre vi auguro una buona giornata una buona serata e una buona notte ciao a tutti e tanti cari saluti anche da questo grandissimo colt che è stato veramente in gamba ciao a tutti